L'Annunciazione di Leonardo da Vinci L'Annunciazione è una dei capolavori giovanili di Leonardo, realizzato durante il suo periodo di formazione fiorentino all'interno della bottega del Verrocchio. Il tema trattato è di soggetto religioso e, prima di Leonardo, esso è stato affrontato anche da altri artisti importanti, come ad esempio da Simone Martini e Beato Angelico. Tuttavia Leonardo lo narra in maniera totalmente diversa, contrariamente a quanto fatto dal Beato Angelico, il quale aveva ambientato la scena in un chiostro. Leonardo l'attualizza, ambientandola nella sua stessa contemporaneità. Guarda anche il video sull'Annunciazione con spiegazione e riassunto osservando ad esempio l'architettura alle spalle della Vergine. Infatti, si può facilmente notare come essa risponda ai canoni quattrocenteschi fiorentini, anche il basamento del leggio del resto, è dipinto sul modello scultoreo del XV secolo. Il Vasari nelle sue vite descrive Leonardo come colui che introduce nelle figure il moto ed il fiato, evidenziando quindi la capacità dell'artista di saper caratterizzare i suoi personaggi dal punto di vista psicologico. Annunciazione Leonardo Significato e analisi osservando il viso della Vergine Maria, si può facilmente notare come la scansione dei piani luminosi sfumati messa in atto da Leonardo, aiuti ad enfatizzare la dolcezza dei tratti somatici della Vergine. Allo stesso modo inoltre, la mano sinistra della Madonna denuncia la consapevole accettazione del messaggio dell'Angelo ancor prima che egli abbia finito di parlare, caratteristica questa che contribuisce a precisare ancor meglio quella che viene chiamata la poetica Leonardiana degli affetti, ossia la necessità di rivelare chiaramente ciò che i personaggi stanno pensando. Guarda anche l'annunciazione di Simone Martini e l'ippomen annunciazione Leonardo da Vinci, personaggi personaggi di Leonardo, sono quindi dei personaggi vivi, questo lo si comprende anche osservando le ali dell'Angelo, le quali vengono rappresentate proprio, nel momento in cui si stanno per richiudere. Sono quindi delle ali battenti e vive, il cui piumaggio è definito dall'artista in maniera reale a seguito dell'osservazione minuiziosa delle piume degli uccelli e della loro anatomia. Questo senso di estrema descrizione del reale, lo si vince anche osservando i fiori del prato in primo piano, di essi, possiamo chiaramente distinguere nelle specie e le varietà floreali, Un po' come se il mondo dovesse essere osservato sempre con un occhio scientifico analitico, annunciazione Leonardo da Vinci, descrizione opera una delle peculiarità leonardesche presenti in questa tavola, la si rintraccia, nel paesaggio dipinto oltre la balaustra, l'altura di fatti, è definita in base a quella che Leonardo chiamava la prospettiva dei perdimenti. Ma in cosa consiste tale espediente, che fu proprio dell'artista, semplicemente nel rappresentare la realtà tenendo conto di vari elementi, tra cui, la presenza di umidità negli strati bassi dell'atmosfera. Peculiarità questa che permette ai colori di mutare sfumando nello specifico verso un grigio azzurrino, come ad esempio nel paesaggio, alle spalle della gioconda, fascina triste, della distanza dal punto di osservazione, e del graduale sfocarsi delle immagini. La luce dell'opera non è piena, ma attenuata poiché si tratta della luce del crepuscolo, questo conferisce ai personaggi un maggiore ammorbidimento dei tratti somatici. Evidente la differenza è con opere quasi coeve, come ad esempio la primavera del Botticelli. In quest'ultima opera infatti, la vera protagonista è la linea, nell'annunciazione di Leonardo invece, la linea è messa in secondo piano, ed è utilizzata solo per la definizione di alcuni particolari, contrariamente invece alla vastità spaziale la quale risulta essere la vera protagonista dell'opera. Leonardo da Vinci Approfondimenti Link utili per approfondire la vita e le opere di Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Biografia, invenzioni e opere Leonardo da Vinci Poeta e letterato Vite e opere letterari Annunciazione Storia Analisi e descrizione del dipinto di Leonardo da Vinci Ultima Cena Storia Analisi e descrizione del dipinto di Leonardo da Vinci La gioconda Storia Descrizione e significato del dipinto Di Leonardo ascolta la puntata del nostro podcast dedicata a Leonardo da Vinci Ascolta su Sprecher Un aiuto extra per il tuo studio Per saperne di più su Leonardo da Vinci e sulla storia dell'arte guarda qui L'uomo e la natura 2 euro e 99 centesimi Da vedi l'offerta Meno 5 e am Punto e virgola Perchett Punto e virgola Leonardo da Vinci La vita del più grande genio di tutti i tempi 13 euro e 30 centesimi 14 euro da vedi l'offerta Riassunti di storia dell'arte Maturità 16 euro e 99 centesimi Da vedi l'offerta Grazie a tutti i nostri spessi di storia dell'arte guarda qui Grazie a tutti i nostri spessi di storia dell'arte guarda qui Grazie a tutti i nostri spessi di storia dell'arte guarda qui